Carissimi amici, sono sempre contenta di essere con voi, anche se non vi vedo, e oggi ho una notizia molto bella da condividere con voi. Non è ogni giorno che celebriamo il compleanno di una persona che ha due mille anni. E' successo in Medjugorje questo evento. Vi dico la storia, era nel 1984 e la Madonna aveva rivelato ai veggenti che il 5 agosto ci sarà il suo compleanno e che ci avrà due mille anni. Allora un po' prima aveva rivelato questo e il giorno prima, la sera, la veggente del cuore Jelena Vassil era col gruppo di preghiera nella piccola stanza nel suo giardino. I giovani erano seduti per terra così come facevano tre volte la settimana sotto la guida di Jelena per aiutare questi giovani a pregare. E quel giorno si è messa a pregare il Padre Nostro. Stranamente in mezzo del Padre Nostro ha dovuto fermarsi perché non poteva più parlare. A quel momento ha avuto una visione interiore. Sapete che Jelena Vassil non vedeva la Madonna come i veggenti, vedeva interioramente anche Gesù, Maria. Ecco, quel momento ha visto Satana per terra. Un'arrabbia terribile, era agitato, sconvolto e visibilmente molto arrabbiato. E ha detto a Jelena, chiedi a lei di non benedire il mondo domani. Una domanda un po' strana, diciamo. Ma grazie a Dio Jelena era già molto abituata alla scuola della Madonna, al combattimento spirituale. Non si è lasciata impressionare e finalmente Satana è sparito. A quel momento la Madonna si è manifestata a lei. E la Madonna sorrideva. E sorrideva in modo particolare e ha detto a Jelena Lui sa perché ti chiede questo. Perché lui sa che domani l'Altissimo mi ha permesso di benedire il mondo con la mia benedizione solenne. E lui, Satana, sa che domani sarà legato e non potrà agire. Sarà legato. Questo spiega come era arrabbiato. Bene. Il domani era fenomenale. Un fiume di grazie, di luce, di gioia. Una cosa particolare è successa è che tutte le persone presenti, non lo so, due, tre, quattro mille persone, non so, sono tutte messe in fila per andare a confessarsi. C'erano più o meno 70 prete quel giorno, 5 di agosto. Erano a quella epoca seduti sull'erba, una piccola sedia, e le persone agginocchiate sull'erba. Era molto semplice a quel momento. E tutti sono messi in fila verso i punti dei sacerdoti per fare la confessione. Ma la cosa straordinaria è che tutte queste persone si sono messe a piangere. Piangere, piangere, lacrime, grandi lacrime. Erano infatti pianti di pentimento, soprattutto di contrizione. Il loro cuore era contristo davanti all'orrore del peccato che avevano commesso, ma soprattutto della bellezza di Gesù che li amava sempre. L'esperienza di un amore incredibile, profondissimo, della persona di Gesù per loro, malgrado il peccato. E questo era un shock per loro. E allora tutti volevano andare verso la confessione per lavare questo peccato che era rivelato a loro in un modo particolare e soprattutto riconciliare, abbracciare Gesù nella confessione per dire «Signore, accolgo la tua misericordia, la tua tenerezza, il tuo amore, la tua luce, accolgo la tua persona con tutto il cuore e vorrei ad esempio essere una sola cosa con te». Era incredibile. I preti che erano presenti a confessare hanno testimoniato che anche loro piangevano talmente che le loro stole erano bagnate con le lacrime delle persone che venivano verso di loro, ma soprattutto le loro lacrime. Potete immaginare i 70 preti piangiando il proprio peccato, la tenerezza di Gesù, la tenerezza del Padre che perdona ed è una scena unica nella storia del mondo. Incredibile. La cosa anche fenomenale di quel giorno è che delle persone che erano venute diciamo come per le loro ferie sulla costa dell'Adriatica per rilassare, prendere il sole, andare al mare, diciamo per fare una vacanza, in un tratto sono state prese di una certezza che devono venire a Medjugorje, senza sapere perché, senza sapere per che cosa, cosa fare lì, perché. Sono state spinte dall'interno per venire a Medjugorje e sono arrivate e la prima cosa che hanno fatto quando sono arrivati è mettersi in fila per la confessione. Tutti. E hanno pianto, hanno fatto come tutti gli altri. Fenomenale. È un evento assolutamente unico nella storia di Medjugorje ma anche nella storia della Chiesa e non dobbiamo stupirci quando Gesù ha voluto onorare la sua mamma e fare un'enorme gioia a lei, al suo cuore materno, non dobbiamo stupirci che la prima cosa che è successo quando Satana era legato, cosa è successo? Fiumi di misericordia, fiumi di luce, fiumi di pentimento, di contrizione, fiumi della tenerezza del Padre e di Gesù per raggiungere questi cuori che erano molti di loro nel peccato ancora. Perché quando Satana lavora, lui odia la misericordia, lui non sopporta la misericordia, lui non sopporta il perdono di Dio, lui non sopporta la confessione, perciò che ha chiuso tante chiese, sono chiusi le confessioni, sono anche spariti. Questo è l'opera del maligno perché lui odia la misericordia e particolarmente il sacramento della confessione. Allora non dobbiamo stupirci di vedere che quando lui non poteva agire tutta la tenerezza di Dio ha potuto raggiungere questi cuori che sono trasformati con la misericordia di Dio. Una felicità, una gioia. Conosco parecchie persone che erano lì, presenti quel giorno, e mi hanno detto, Sor Emanuele, non puoi credere la pace che abbiamo sperimentato. Ma una pace mai sperimentata prima, ma anche dopo. Una pace, ma era come il cielo sulla terra. Una gioia, una pace, una felicità incredibile. E allora cosa è successo? Che la sera la Madonna, come ogni giorno, è apparsa ai veggenti. E cosa ha detto lei? Oggi piango di gioia come mai ho pianto di dolore. E allora vediamo in questa parola il suo cuore materno, perché lei dall'inizio di Medjugorje ha chiamato tutti, tutti, tutti noi a riconciliare con Dio. È venuta per questo, sul lavoro di tanti, tanti anni, avvicinare i suoi figli verso il cuore di Dio. Avvicinarsi e cancellare questa distanza che c'è ancora tra il cuore di Dio e il cuore dell'uomo. Lei voleva fare una sola cosa, così, che Dio e l'uomo siano una sola cosa. E lei ha lavorato come una mamma che tiene tanto a questa esperienza di unità con Dio. Allora pensate un po' come ha visto questo evento. Potete immaginare il suo cuore di madre quando ha visto migliaia di persone avvicinarsi a Dio, confessare i loro peccati, cominciare un'altra vita. Per lei era il sommo della gioia e piangeva di gioia. Poi ha detto, non dimenticare i cari figli, che domani di nuovo Satana sarà fuori catene. Questo giorno era come un momento unico nella storia anche di Međugorje. Lei ha visto questo come una messe spettacolare. Penso che Gesù quel giorno ha dato alla sua mamma la più grande gioia che poteva sentire lei nel suo cuore materno. Era veramente una messe spettacolare. Grazie a Dio. Vi devo dire una cosa che parecchie volte nella mia vita ho provocato un po' Dio dicendo a lui Signore, vedi il mondo, questa apostesia, questo buio, anche i bambini sono velenati dal primo anno con tutto il gender e tutte queste cose che purtroppo distruggono l'innocenza dei bambini come possono dopo fare delle famiglie solide, belle, sante, durabili. Signore, ma cosa deve succedere perché il mondo possa cambiare? E penso, infatti, come risposta vedendo questo evento del 5 agosto a Medjugorje che è una bella risposta del Signore come un esempio di cosa sta per succedere nel futuro. È come un segno che la Madonna ci ha dato e Gesù ci ha dato per spiegare cosa sta per succedere quando sarà il trionfo del suo cuore immacolato. È una cosa anche che ho potuto sperimentare con una grande mistica francese Martha Robin. Ogni tanto vi parlo di lei perché l'ho conosciuta e era una grande grande mistica venerabile adesso. E una volta sono andata da lei ero appena convertita tutta nell'entusiasmo della conversione della liberazione del mio cuore che è wow la felicità incredibile di essere con Gesù nell'inizio del gruppo di preghiera a Parigi e ho contato a lei tante belle cose che noi nel gruppo di preghiera carismatico potevamo sperimentare allora la liberazione le guarigioni l'amore fraterno la tenerezza fraterna il dono delle lingue il dono del schiacciare Satana e tutti quelli carismi che fiorivano in mezzo a noi in questi gruppi di rinnovamento diciamo e allora ero contenta perché pensavo farà preghiera a lei che conto tutte queste cose perché lei preghava giorno e notte invece lei dopo mi aver sentita con gran calma mi dice ma sai questo è niente con paragone con quello che Dio sta preparando per il mondo wow sono stata molto contenta e ho immaginato ma meglio di questo sarà veramente incredibile e infatti lei profetizzava spesso l'arrivo di una nuova Pentecoste d'amore una Pentecoste diciamo un po' diversa dalla prima non si tratta di avere undici uomini nel Cenacolo in presenza di Maria ma si tratta di tutto il mondo un giorno quando tutti uomini donne bambini vecchi qualsiasi la loro cultura il loro paese la loro lingua la loro religione o l'assenza di religione tutti tutti avranno questa esperienza di una effusione grande dello spirito una nuova Pentecoste d'amore e avete visto cosa è successo a Gerusalemme erano appauriti si nascondevano così nel Cenacolo paura di tutto e in un tratto quando è venuto lo spirito santo sono stati completamente cambiati trasformati con un coraggio per annunciare la parola di Dio un'esperienza interiore fenomenale e questo accaderà per ognuno di noi si chiama anche l'illuminazione delle coscienze o la Pentecoste d'amore è l'invasione diciamo l'invasione profondissima della luce dello spirito santo dell'anima umana e questo è la Pentecoste si può forse collegare questo fenomeno con il trionfo del cuore immacolato di Maria probabilmente so che Ivan una volta in un'intervista ha detto che quando tutti i secreti di Medjugorje saranno rivelati ritroveremmo la fede dei nostri padri questo è forte la fede dei nostri padri siamo lontano di questo oggi e poi Sokiewicz ha detto che il trionfo del cuore immacolato di Maria è molto vicino e Maria Pavlovich dalla cattedrale di Viena ha detto poco fa che il trionfo del cuore immacolato di Maria ha già cominciato e la Madonna stessa ha ringraziato le persone che prendono in loro cuore il suo trionfo e dicendo che lei provi una grande gioia vedendo queste persone che veramente appartengono a lei come l'ha detto in luglio 2019 in agosto ha detto coloro che sono miei vinceranno perché il loro rifugio sarà il cuore del mio figlio Gesù unito certo al suo cuore immacolato dunque cari amici è questo il nostro futuro il nostro futuro non è la fine del mondo una volta ho chiesto a Mirjana la Madonna ti ha magari parlato una volta della fine del mondo mi ha detto no non mai mi ha parlato di questo poi ho detto la Madonna ti ha parlato del ritorno di Cristo sì ma certo mi ha parlato infatti non siamo vicini della fine del mondo no ci vuole ancora un po' di tempo e siccome questo è il nostro futuro non dobbiamo avere paura tante volte la Madonna ci ha detto non aver paura cari figli non aver paura la paura impedisce l'amore questo è chiaro allora non aver paura anche se vediamo che infatti tutto crolla oggi la famiglia crolla la chiesa è una grande diciamo apostasia anche dall'interno una grande difficoltà la grande crisi c'è la confusione poi il paganismo il satanismo e tutto tante cose sono crollando anche l'economia adesso la pandemia è difficile ma non dobbiamo avere paura perché tutte queste cose difficilissime preparano il trionfo preparano questa Pentecoste se la Madonna ha detto alla fine il mio cuore immacolato trionferà non ha detto alla fine di che cosa ma se parla di un trionfo sappiamo che non trionfiamo sulla pace trionfiamo su una guerra su un conflitto una difficoltà e siamo dentro questa guerra questa difficoltà siamo dentro e dobbiamo veramente prendere il nostro coraggio dallo Spirito Santo dalla presenza di Maria che moltiplica oggi le sue apparizioni non solo per Lourdes, Fatima Medjugorje ma anche oggi lo so che appare a tante altre persone allora coraggio cari amici non mollare siamo con lei siamo con Gesù siamo col Padre Gesù sogna di avere ognuno di noi nel suo cuore il nostro rifugio cari amici l'unico rifugio oggi è il cuore di Gesù non cercare un altro se siete uniti col cuore di Gesù siete a posto i beni materiali non danno la felicità e lo sperimentiamo più che mai oggi e la buona notizia è che questo avvertimento diciamo questo giorno unico nella storia di Medjugorje e nel mondo è stato come un segno per noi come un esempio di quello che Dio prepara per tutto il mondo perché questo momento quando Satana sarà legato sarà come quel giorno come un fiume che sta per invadere il mondo e raggiungere ogni persona dunque questo è il nostro futuro e lo vediamo bene questo futuro perché ha già cominciato conosco parecchie persone sia fuori Medjugorje o a Medjugorje che hanno avuto quell'esperienza bellissima dell'effusione dello Spirito Santo diciamo dell'illuminazione della loro coscienza e ho notato delle somiglianze nell'esperienza che hanno avuto una cosa molto comune a loro è che prima vivevano diciamo nel peccato tante volte nel peccato grave nell'adultero nel rubare bestemmiare tutti i tipi di peccati e in un tratto sono stati come fulminati da una luce dall'alto che ha invado il loro cuore sono messi a piangere 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 tutte le lacrime del loro corpo e hanno visto il loro peccato ma invece di essere spaventati hanno avuto un dolore terribile perché hanno visto al stesso momento l'amore incredibile di Gesù per loro e quest'amore era talmente sconvolgendo che piangevano di gioia e di dolore al stesso momento una cosa incredibile il frutto di questa esperienza è sempre lo stesso hanno cambiato vita hanno cambiato cuore talmente è cambiato il cuore e la vita che le persone al tono di loro hanno detto ma sono pazzi perché non potevano smettersi di parlare di Gesù di leggere la Bibbia di contare le storie del Vangelo una gioia che non avevano sperimentato prima un cambiamento completo di vita e anche di attività di rapporti umani delle scelte hanno cambiato lo scopo della loro vita ha cambiato tutto ha cambiato sono messi veramente sul cammino della santità la Madonna fino adesso non ha mai parlato precisamente dell'illuminazione delle coscienze ma lo fa attira le persone qui e fa sperimentare questa esperienza questo fenomeno allora per me è il segno ovvio che prepara veramente per poco tempo ancora il suo trionfo altri particolari di queste persone è che sono molto molto attaccati al sacramento della confessione hanno realizzato come Gesù stesso ci aspetta nel confessionale tramite il sacerdote e hanno sperimentato come il sacramento ci pulisce loro ci tengono ad andare a confessare regolarmente perché hanno sperimentato come il sangue di Gesù che passa sulla nostra anima spazza via tutta questa spazzatura questa porcizia che è dovuto al peccato che purtroppo rovina l'anima dell'uomo e lo mette lontano da Dio sono molto fedeli al rosario sono molto desiderosi e felici di adorare Gesù nel santissimo sacramento dell'altare di andare a messa non vogliono mancare un giorno la santa messa ricevere Gesù pregare con Gesù sono molto aperti alla povertà delle persone per aiutare per farla corta sono veramente sul cammino della santità e tutto questo certo mano nella mano con Maria non dimenticare che la Madonna è stata per gli apostoli l'immagine della chiesa in preghiera nel piccolo cenacolo di Gerusalemme quando hanno aspettato la venuta dello Spirito Santo promesso dal Padre Celeste il Paraclito è lei che ha diciamo guidato la prima novena nel cenacolo con gli apostoli per preparare il loro cuore alla venuta dello Spirito Santo come è lei che oggi ci prepara a questa nuova Pentecoste d'amore la cosa molto importante da ricordare cari amici è di fare del tutto del tutto per rimanere nella grazia di Dio non lasciate la vostra anima rimanere nel peccato grave nel peccato mortale anche mettere Dio al primo posto nella nostra vita è bello vedere che questo movimento della nuova Pentecoste che è profetizzata e che è già cominciato l'illuminazione delle coscienze è la piena realizzazione del sogno grande nostro caro Papa San Giovanni Paolo II che parlava della civiltà dell'amore e cari amici siamo noi chiamati a essere quegli strumenti della Madonna apposto nel suo cuore per costruire per affrettare la venuta di questa civiltà dell'amore di questa primavera della Chiesa allora cari amici abbiate coraggio non mollare perché ci aspetta quel bel futuro e noi siamo le pietre vive di questo tempo meraviglioso che ci aspetta dunque la nuova evangelizzazione dunque la primavera della Chiesa e dunque il trionfo del cuore immacolato di Maria e possiamo rallegrarci di essere scelti per essere coloro che sono chiamati a costruire questa civiltà dell'amore allora non ritardiamo a dare a Maria e a Gesù il nostro sì e non ci penteremo mai di aver dato questo sì e che Dio vi benedica cari fratelli e sorelle Dio Padre il Creatore Gesù il Figlio il Redentore e lo Spirito Santo l'Illuminatore Amen l'Illuminatore 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 Grazie a tutti.